Negli spazi della Facoltà di Architettura è stato inaugurato il nuovo Museo Universitario delle Arti e delle Culture Contemporanee. Stefano Birocchi. Ogni forma è un volto che ci guarda e siccome ci guarda noi dobbiamo imparare a guardare. L'insolita donazione in vita dello scultore italo antico, protagonista di spicco del rinnovamento artistico in Sardegna fin dagli inizi degli anni 60, è l'ultima di una serie di acquisizioni di opere dei più importanti artisti contemporanei sardi e non solo avvenute a partire dalla fine degli anni 50. Custodite finora dal Dipartimento di Lettere e Beni Culturali, da oggi compongono la collezione permanente del MUAC, il Museo Universitario delle Arti e delle Culture Contemporanee, inaugurato negli spazi della Facoltà di Architettura in Via Santa Croce. Vogliamo che la storia dell'arte sia posta al crocevia di diverse discipline e con altre discipline si confronti, quindi non organizzeremo soltanto eventi espositivi ma anche convegni, seminari, tavole rotonde, insomma occasioni di dialogo. Questo è anche un museo per gli studenti pensato per l'attività didattica. Qua ci sarà l'opportunità di fare delle mostre temporanee e i nostri studenti potranno applicare per davvero tutto quello che imparano in teoria per vedere come si organizzano le mostre, come si scelgono, quali sono i problemi che si devono affrontare, quali sono le cose che si devono fare. Insomma siamo veramente contenti di aver avuto questa opportunità. Per ora il museo avrà un'apertura al pubblico settimanale, si lavora con il Comune per l'inserimento nella rete museale cittadina e consentire una fruizione più ampia.